E' stato il padre a chiamare i carabinieri per far arrestare suo figlio, poche ore dopo che quest'ultimo aveva rapinato un'area di servizio a Tolentino. La telefonata del genitore è stata fondamentale per chiudere il cerchio attorno al corpo messo a segno dal giovane di San Severino. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il ventenni si sarebbe presentato alla cassa del bar dell'autogrill San Martino poco prima dell'uscita di Tolentino Ovest lungo la superstrada Valdichienti armato di una pistola. Minacciando la barrista si sarebbe fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa e alcuni grattevinci per poi direguarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattato l'allarme con i carabinieri di Tolentino e la polizia stradale che si sono messi sulle tracce del giovane rapinatore. La svolta cruciale si è verificata quando il padre del ragazzo ha contattato le forze dell'ordine segnalando di aver notato dei soldi e dei grattevinci spuntare dalle tasche del figlio. Il genitore ha detto di aver notato un atteggiamento strano ed evasivo da parte del ventenne e quando questi è uscito dicendo di recarsi a Civitanova il padre ha chiamato i militari dell'arma raccontando tutti i suoi timori. Grazie a questa preziosa informazione i carabinieri sono riusciti ad intercettare il giovane a Tolentino. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso dei soldi ritenuti proventi della rapina la cui somma resta ancora da quantificare e alcuni grattevinci. Nonostante la pistola utilizzata nella rapina non sia stata ancora rinvenuta le prime informazioni indicano che potrebbe trattarsi di un'arma giocattolo. Per il giovane sono scattate le manette ai polsi ed ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.